La convenzione tra il Comune di Gela e il Centro Regionale Trapianti Sicilia sulla possibilità di esprimere la volontà sulla donazione di organi e tessuti si è svolta nel corso di un interessante incontro dibattito al Club Vela di Gela presieduto da Luigi Nastasi. L'evento ha dato il via al calendario degli appuntamenti previsti per l'estate 2016. Siamo veramente orgogliosi che questa firma viene fatta al Club Vela perché ci rende gratifica di un lavoro veramente grande. I prossimi appuntamenti oltre a questo che apre la stagione degli incontri saranno tanti e variegati e soprattutto punteranno sulle tematiche che sono di interesse della comunità gelese. Il prossimo incontro sarà quello sul porto. Nel corso della serata è intervenuto il top manager dell'ASP2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono. Due parametri importanti di valutazione per lo stato di civiltà di un territorio sono esattamente l'accoglienza e la donazione. Ebbene, i nostri territori per accoglienza e donazione non sono secondi a nessuno. Quello che si sta facendo oggi è qualcosa che agevola la donazione. Però il nostro popolo è un popolo accogliente, è un popolo generoso ed è un popolo che proprio della donazione ne fa un punto di forza. Ha coinvolto il pubblico presente in sala con un'interessante e approfondita relazione il direttore della struttura di rianimazione e terapia intensiva e coordinatore locale dell'ASP2 di Caltanissetta per la donazione di trapianti e organi, Lucio Antona. Si sceglie di donare perché effettivamente è un atto d'amore incondizionato senza avere solo la gratificazione di averlo fatto. Perché non ci dimentichiamo che dietro una donazione c'è una morte e quindi c'è una persona cara che va via. E quindi trovare il momento giusto per concedere, per dare, per fare questo atto d'amore non è per niente facile e su questo noi altri continuiamo la nostra lotta a far sì che questa politica, questo dono d'amore venga diffuso nella popolazione di Gela e devo dire che effettivamente c'è una bellissima risposta.